E buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, questo è il nono episodio di Forza Horizon 3, siamo qui ancora con il DLC Hot Wheels, andiamo a farci qualche gara subito, immediatamente, abbiamo questa macchina assurda, bellissima, sentite com'è, come soffia la turbina, ah ho cambiato anche il claxon, mi sembra molto più serio questo, ovviamente, andiamo a cercarci, ecco qua, siamo già qua vicino, grado gara di classe, sprint acrobatico epico, andiamo subito, andiamo un po' dentro, giustamente spartana come auto perché non deve avere robe, robe strane, optional, autoradio, non deve avere niente quest'auto, è solo auto da corsa, ok, andiamo, eh grazie, grazie, quindi termina la corsa, vinci la corsa e guadagna 10.000 punti abilità, andiamo, perfetto, va benissimo, noi abbiamo la nostra auto, ah comunque queste quelle che ci hanno regalato e questa qui l'ho appena acquistata e la faremo come la DTM, assolutamente, quindi prepariamoci perché sarà uno spettacolo, andiamo con la nostra gara, vai, vai, questo DLC Hot Wheels già così, mamma mia, ma che ho, ma ci sono auto normali, solo io ho la Hot Wheels, va bene, vedremo delle belle, e beh, giustamente, Hot Wheels, vai, vai, beh, siamo gruppo B, quindi non è che siamo molto sportivi, siamo al massimo della B, però ovviamente queste macchine qua sono un po' dei polmoni, non possiamo farci nulla, avrei voluto fare qualche modifica, però purtroppo il problema, sapete qual è? sì, abbiamo pochissimi soldi, adesso un bel giro della morte, bellissimo, Hot Wheels ci sta dando delle grandi soddisfazioni, cosa frenano questi qui, bisogna frenare dopo, e noi guadagniamo punti e posizioni, bene così, dai, 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 si tolga l'ecosta, bella sta. Occhio a non volar giù, mamma mia, che spettacolo ragazzi, emozionante, comunque è una gara percentuale non è a circuito, quello si è schiantato malamente buon per lui occhio abbiamo una delta S4 stradale davanti a noi, siamo a metà gara dai che adesso la prendiamo dai 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 dai, bellissimo oh i punti dai dai ci rifacciamo ci rifacciamo, mancano 3500 punti il nostro obiettivo qualche derapata bella abilità in strada vai giù tutto dire derapata ma questa macchina non è fatta per derapare purtroppo che bellissimo che belli che sono sti boost spettacolo dai che manca poco ragazzi mancano 1500 punti dai che li abbiamo fatti ma se non ci schiantiamo adesso ok non ci riprende ma se non ci schiantiamo adesso mamma mia ok completato perfetto possiamo vincere tranquillamente la gara dai dai falla andare sto macinino sto catorcetto 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 mica tanto però in fronte ai mostri che abbiamo già guidato arriviamo con stile bellissimo dai bella sta gara eeeh vabbè ma se ci prende ecco con lo s4 va bene dai quel t-rex bellissimo oh 16.000 crediti va benissimo va benissimo vai vai mercedes benz 280 sn eh no però 2000 crediti ma dai ma cos'è questa è una mafia comunque un complotto ebbè dimmi tu quindi siamo a 3 su 5 perfetto andiamo a vedere qualche altra gara di abilità qualche salto della morte anzi qualche giro della morte vediamo un po' panoramici rivelatori di velocità lista dei desideri di hotwills circuito sopraelevato vai andiamo a farci questo vediamo che che cosa ci fanno fare in questo circuito comunque stiamo sbloccando obiettivi su obiettivi eh che forse eh anzi quasi sicuramente non vedete da a video perché attenzione che qua ci stavo ammazzando comunque abbiamo fatto anche questo perché col metodo di registrazione che uso purtroppo non mi registra i messaggi eh vabbè ma eh abbiamo capito abbiamo capito va bene eeeh quanta roba e che cos'è no grazie noi andiamo a farci la nostra gara che non abbiamo una classe A per fare queste gare abbiamo una classe B non Mercedes comunque dicevo i i messaggi a schermo non non si vedono allora tempo sul giro più veloce 1.55 vediamo speriamo bene si si sempre con questo vai 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 non perdiamo tempo dunque questo gioco mi sta piacendo sempre di più è uno spettacolo la serie forza horizon non si discute assolutamente via 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 no ma che cosa vabbè se non lo capisce lei come facciamo a capirlo noi giustamente no comunque sempre macchine normali ci sono una RX7 la 190E bellissima ok adesso siamo su due giri quella è una Camaro del 68 Camaro SS del 68 dovrebbe essere non vorrei dire una stupidata non mi ricordo mai 68 o 69 si ma qua mi sa che faremo molta fatica a vincere uuuuh ma vabbè bellissimo sempre più contento di aver scelto questo DLC anzi scelto di aver comprato il gioco con già dentro questo DLC è uno spettacolo siamo praticamente degli stuntmen cerchio di fuoco vabbè ormai è diventato un classico bellissima questa macchina ok questa è una ah ok è forte non piace più di tanto se ho sbagliato strada no però il checkpoint ce l'ho dato stesso era una strada alternativa giustamente noi la prendiamo perché siamo alternativi ce la faremo a fare meno di 1.55 non lo so vediamo vediamo 53 eh no questo giro no giustamente siamo partiti da fermi ecco qua ci fermiamo contro un muro giustamente comunque troppo bello veramente queste queste impalcature che tengono su la pista queste strutture ah barcollanti no perché sono molto sicure ecco abbiamo 8 marce bellissimo siamo arrivati a 2.70 quasi io che dicevo che ero un macinino ah faccio un macinino dai dai che ce la facciamo a farlo dobbiamo prendere più stelle possibili per completare obiettivi su obiettivi io sto gioco lo vorrei completare al 100% magari platinarlo non riuscirei a platinarlo però assolutamente va completare adesso prendiamo questa strada qui almeno ne vediamo tutte e due poi sono uguali non cambia niente a parte che qua ci stavamo ammazzando e che usciamo stretti era meglio l'altra dai che ci siamo quasi dai 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 voglio batterlo il record assolutamente non ce la facciamo non ce la facciamo 48 49 50 51 e 52 grandissimo dai che ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta 152 279 perfetto meglio di così Samoritz 18.000 perfetto siamo già 100.000 siamo ritornati ai 100.000 che avevamo prima va bene va bene va bene vediamo vediamo cosa ci fa fare adesso allora vediamo un po' lista dei desideri eh classe A no però mi dispiace ma vediamo se c'è qualcos'altro allora l'autosalone eh blizzardmante piacerebbe ma vediamo vediamo 7 medaglie allora facciamo così sì dai andiamo qui e ci prendiamo un'auto anzi damarriamo questa andiamo di classe A facciamo diventare prepotentissima eh clack sono bellissimi è troppo bello guardalo volo hot wheels bellissimo mille punti mazza ah c'è un cartellone andiamo a distruggere divastare eccolo qua bello nascosto eccoci vediamo sempre uno stile e andiamo a modificare quest'auto in maniera oppropriosa allora garage oh gioielli dimenticati dopo la andiamo a vedere che ce l'hanno aggiustata la nostra Ferrari allora vediamo un po' a 7.99, va benissimo 42.000 crediti buttati nel cesso eh vabbè però adesso deve essere cattiva allora, andiamo un po' ecco già scoppietta bellissima, bellissima allora, allora vediamo un po' quindi adesso ci possiamo fare tutte queste cose qui curve di fuoco, zona di velocità oh, adesso si che va forse avrei dovuto mettere la trazione integrale bellissimo, bellissimo no, 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 si fermi, si fermi nuovo record personale, perfetto ah, due stelle ci mancano cinque medaglie ok allora, facciamo così direi di terminare qui questo video e ci vediamo con un prossimo video di Forza Eurasium 3 vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto mettete mi piace commentate condividete il video e un saluto a tutti da Asbrad